Bene, ciao a tutti! Questa è la mia terza recensione e questo è il Cretamonster che ho acquistato su ebay e arriva dall'America. Questo è il set del Drago e del Luco Mannaro. Con questo set si possono creare più di 250 combinazioni e aggiungendo l'altro che è quello del monstro marino, il vampiro, più quelli più piccoli dove mancano dei pezzi che dopo spiegherò c'è la figlia dell'insetto, dello scheletro e del monstro a tre occhi e in ogni piccolo pezzo si possono creare più di 150 combinazioni e poi questi sono degli esempi delle combinazioni che si possono creare. Ok, si tolgo questa pellicola. Ok, c'è una testa per il Luco Mannaro, una testa per il Drago, le orecchie del Luco Mannaro, le ali del Drago, le mani del Luco, le braccia del Luco, le braccia del Drago, le scarpe, che c'è un po' di scarpe per tutte e due, le gambe del Luco Mannaro e del Drago, il piedistallo, c'è la spazzola che l'ho lasciata dove ci sono tutte le altre bambole, e poi una parrucca. Ora monterò il Drago. Si prende il corpo e ci sono due vestiti. Il corpo ha dietro due buchi per mettere le ali. Iniziamo a mettere le ali. La testa. Le gambe. Rimettiamo l'ala. Poi si mettono le braccia. E poi le mani. Poi la parrucca. Le scarpe. E così la bambole è pronta. E si può fare la stessa cosa con tutti gli altri pezzi e si possono anche mescolare tutte le varie bambole. Bene. La recensione è finita e la prossima che farò è su Draculaura in versione del Tyred. Ciao! Ciao! Ciao!